Per la lotta contro la violenza sulle donne, la Regione Puglia investirà quasi 750 mila euro per sostenere i centri antiviolenza privati e le case rifugio in tutto il territorio pugliese. Vediamo. La Regione Puglia ha deciso di investire quasi 750 mila euro per sostenere i CAV, centri antiviolenza privati e le case rifugio al fine di poter garantire più accessi. Per il potenziamento delle case rifugio e quindi l'accesso ai contributi, la dotazione è di oltre 610 mila euro, mentre per l'attivazione degli sportelli e dei punti di ascolto dei centri antiviolenza privati la dotazione ammonta a 120 mila euro. I primi due avvisi pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Puglia mirano a sostenere e rafforzare la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti su tutto il territorio regionale. L'obiettivo è quello di potenziare le forme di assistenza, accoglienza e accompagnamento alle donne vittime di violenze e ai loro figli, garantendo le attività e gli interventi. Ed infine il terzo avviso punta a rafforzare la rete dei servizi.